Ad aprile avrebbe rapinato una donna a bagheria strappandole la collana d'oro, a giugno invece avrebbe scippato un uomo a Ficarazzi mentre passeggiava il cane, arrestato un palermitano di 47 anni grazie alla collaborazione tra gli agenti della squadra investigativa del commissariato di bagheria e i carabinieri della stazione di Ficarazzi. Accolte le richieste dal pubblico ministero, titolare dell'indagine, il GIP di Termini Merese ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo individuato dagli investigatori nel corso delle indagini in relazione ai due episodi in cui avrebbe agito con un complice sul cui conto sono attive le ricerche. Nel primo caso avvenuto lo scorso 29 aprile, due giovani si erano resi responsabili di una rapina ai danni di una donna che viaggiava a bordo della propria autovettura tra le strade del centro storico di bagheria. Nella circostanza, mentre uno dei due rimaneva alla guida dello scooter, il complice si avvicinava alla donna cercando di strapparle alla collana d'oro che portava al collo. Inizialmente l'anziana vittima aveva cercato di opporsi all'aggressione, ma l'uomo le aveva stretto il collo con forza, costringendola a cedere. L'indagata è ritenuto uno dei due assalitori anche attraverso un minuzioso lavoro di analisi e riscontro che ha consentito di trarre, per esempio, utili spunti anche dal mondo dei social. Il secondo episodio delittuoso, contestato nell'ordinanza del giudice del Tribunale di Termini Merese, riguardo uno scippo commesso ai danni di un anziano pensionato di Ficarazzi, il quale lo scorso 3 giugno, mentre stava passeggiando in quel comune con il proprio cagnolino, veniva sorpreso da un aggressore che, commossa fulminia, gli scippava la collana d'oro che portava al collo. Anche in questo caso, grazie all'attenta visione degli impianti di videosorveglianza installati in zona, i militari della stazione carabinieri di Ficarazzi sono riusciti a risalire alla targa del motoveicolo utilizzato dall'uomo in sella, alla quale vi era ad attenderlo un secondo complice. Mirati accertamenti eseguiti sul mezzo utilizzato, hanno consentito ai carabinieri di Ficarazzi di pervenire all'identificazione dell'autore materiale del reato colpito dal provvedimento restrittivo, ma anche di acquisire significativi elementi in capo al complice in atto al vaglio dell'autorità giudiziaria.